Sei pronto a scoprire un'esperienza audio straordinaria? VEOS X2 i nuovi auricolari Bluetooth per lo sport e la vita quotidiana. Li trovi solo da Wabedoo Store. Approfitta del codice sconto INSTA-20 per averla ad un prezzo esclusivo. Le cuffie VEOS X2 sono il perfetto connubio tra stile, comfort e qualità del suono. Con un design elegante e moderno, queste cuffie sono l'accessorio ideale per chiunque voglia godere di un'esperienza audio eccezionale in qualsiasi situazione. VEOS X2, qualità audio superiore, dotate di speaker ad alta definizione. Queste cuffie offrono un suono nitido, bilanciato e ricco di dettagli. Non lasciarti sfuggire questa occasione unica. Acquista oggi stesso le cuffie VEOS X2 su WabedooStore.com utilizzando il codice sconto INSTA-20 o vieni in store a Milano.